Se la rappresentanza dell'Alcoa ha il piacere di farci un saluto, siamo molto lieti di dare la parola ai rappresentanti dei lavoratori di questa industria che sappiamo cosa rappresenta per il Sulcis e per l'intera Sardegna. Grazie mille. Buongiorno a tutti, il mio nome è Manolo Muredu e in realtà non sono un lavoratore Alcoa, ma sono un lavoratore dell'indotto che opera all'interno del polo industriale e quindi di Alcoa. Bene, io vorrei partire dicendo alcune cose, cercherò di essere veloce però un minuto, un po' poco. E quindi dire che oggi sono qua insieme ad altri colleghi, altri non sono potuti venire e non ci siamo organizzati per questo, però con grande attenzione per ascoltare quello che Progress e quindi i movimenti indipendentisti della Sardegna hanno da dire rispetto alla nostra situazione e rispetto alla situazione di tutto il comparto industriale che noi sappiamo in Sardegna essere andato in fortissima crisi. Una crisi irreversibile, siamo quindi alle soglie della deindustrializzazione completa e quindi noi vorremmo capire cosa ci può essere di alternativa, quindi ricollegandomi anche al ragionamento che ha fatto Giacomo Meloni prima, alla chiusura di queste fabbriche. Perché un conto, e questo è anche uno dei motivi per cui ricollegandomi a quello che ha detto Bastiano prima, bisogna essere delegabili. Nel Sulcis l'indipendentismo non è delegabile, non si è dimostrato delegabile e qua ci sono anche dei rappresentanti dell'indipendentismo del Sulcis e non si è dimostrato delegabile nei nostri confronti perché non si può dire queste fabbriche devono chiudere, questo modello di sviluppo è totalmente fallimentare e poi non si è in grado di proporre materialmente, in modo certificato, in modo dettagliato ai lavoratori, un'alternativa nel breve e medio periodo. Perché parlare di bonifica in generale significa dire puliamo il territorio, ma cosa significa la parola bonifica? Significa pulire? Con quali aziende? Con che tipo di specializzazioni? Con che tipo di fondi? Dove si prendono i fondi per poter avviare le bonifiche? La programmazione delle bonifiche? Lo studio delle bonifiche? Se dai lavoratori non si va con dei piani dettagliati, certificati, dei piani che veramente devono avere il riscontro, i lavoratori non ti delegano, i lavoratori non ti prendono in considerazione. Ma io questo lo dico non solo come critica, perché sono qua anche per un altro motivo e si ricollega a questo. Quest'anno io sono stato uno di quei criminali che alla miniera di Carbonia il 13 gennaio si è scontrato con la polizia, che il 27 marzo a Roma ha preso una denuncia per esistenza pubblico ufficiale e si è scontrato con la polizia. Sono uno di quei lavoratori che ha capito sulla sua pelle cosa significa essere un cittadino di serie B. Sono andato a Roma e ho capito sulla mia pelle cosa vuol dire vedersi sospesi i diritti che la Costituzione italiana prevede o dovrebbe prevedere. Sono uno di quei lavoratori che voleva partire a Roma per manifestare il proprio diritto al lavoro e gli è stato negato, gli è stato impedito. E quindi come tanti miei colleghi quest'anno ho maturato una coscienza, una consapevolezza che è quella di essere un cittadino sardo e non un cittadino italiano e che l'Italia ci tratta come cittadini di serie B e come una colonia. E appunto per questo chiedo e adesso taglio perché volevo dire anche un'altra parola cerco di essere velocissimo chiedo ai movimenti indipendentisti in questo frangente a progress per me è giusto che ci siano tanti movimenti ma è giusto che ci sia anche un movimento che sia sopra gli altri movimenti e quindi lo chiedo come se questo movimento già esistesse e non può essere secondo me la consulta rivoluzionaria perché in quell'ambito, non mi dilungo, sembrava più un comitato elettorale che una sintesi tra i vari pensieri indipendentisti. E ripeto, chiedo quali devono essere le alternative ma vi chiedo di proporle in modo serio perché i lavoratori hanno bisogno di queste alternative perché oggi all'interno dei lavoratori, all'interno dei sindacati, perché io sono un delegato sindacale un delegato sindacale che sta sempre in prima fila all'interno dei sindacati, di tutte quelle realtà produttive e sociali della Sardegna si sta sempre più facendo largo un pensiero che quello della libertà, quello della sardità, quello dell'indipendentismo quello semplicemente di essere sardi e quindi vi ringrazio per avermi dato questa opportunità vi faccio i nostri auguri e soprattutto vi chiedo a tutti i leader presenti qua in sala dell'indipendentismo di darci delle risposte certe perché se siete in grado di darci delle risposte certe dettagliate, credibili e delegabili io sono convinto che molti di noi vi seguiranno grazie grazie mille consideriamo molto importante questa apertura di credito bisognerà essere all'altezza delle aspettative siamo d'accordissimo noi come Progress abbiamo chiarito più volte che non si può prescindere dalla vita materiale delle persone e anche il problema della deindustrializzazione della Sardegna non può essere risolto usando slogan deindustrializzazione significa perdita di capacità perdita di un'economia e anche perdita di reddito per le famiglie allora questa situazione è umanamente e politicamente inaccettabile la risposta che la politica deve dare a queste persone a questi territori è non si perde un posto di lavoro nessuna famiglia è privata del suo reddito e si ricostituisce l'economia del territorio nessuno deve essere lasciato indietro questo deve essere l'obiettivo gli slogan non servono è verissimo noi come Progress assumiamo l'impegno di interloquire di avere un'interlocuzione molto più strutturata ad ora in poi con le forze che rappresentano con le delegazioni sindacali insomma con tutta la rappresentanza dei lavoratori non solo dell'Alcoa ma penso all'Euroallumina penso all'Ex-Rocul eccetera eccetera ci impegniamo a trovare insieme a loro le soluzioni perché noi non vogliamo calare dall'alto nessuna soluzione precostituita e preconfezionata le soluzioni le troveremo insieme ai lavoratori alle loro famiglie e al territorio perché dovranno essere un esito che nasce dai territori e dai lavoratori nessuna soluzione preconfezionata confronto aperto questo possiamo garantirlo fin da subito ringrazio moltissimo la rappresentanza dell'Alcoa